Non sono divisi, sono uno, per questo inimmaginabili, sovrapposti ma uno. Ora dico questo Spirito Santo, bisogna fermarsi un po', non vi dice padre, figliolo, Spirito Santo è come se niente fosse, lo Spirito Santo, lo Spirito Santo che cos'è? È il Santo Spiro, è il respiro di Dio, la respirazione di Dio, questo è lo Spirito Santo, è vivo Dio, non è che è il più vivo di tutti noi, come noi e respira e lo Spirito Santo è il suo respiro e che cos'è questo respiro? È l'amore del padre per il figlio, della madre per il figlio, di qualsiasi, è l'amore, il Santo Spirito è la respirazione di Dio ed è l'amore, e l'amore di nuovo che cos'è? È il desiderio dell'amore, l'amore è il desiderio di amare, è l'amore cannullo amato, amar perdona, il desiderio di amare fa sì che chiunque che si ami, quell'amore non andrà mai perso, non esiste amore sprecato, questo è scritto, quell'amore che noi diamo lo riceveremo di nuovo, è il desiderio d'amore, tutti noi desideriamo amare e essere amati, questo è il Santo Spirito, è il desiderio di amore fra un essere e un altro, che è irresistibile e fa sì che tutto stia insieme, è il respiro dell'amore, la respirazione dell'amore, è una cosa bellissima il Santo Spirito.